I fan del Sussex sono entusiasti dell'aspetto luminoso del principe Harry mentre parla durante un pannello virtuale sulla salute mentale, il duca di Sussex si è unito a un panel al Better Up Sinner Workday nella sua prima apparizione per l'azienda da quando è stato annunciato come Chief Impact Officer a marzo. I fan del principe si sono rivolti a Twitter per commentare la sua nuova apparizione dicendo che il suo aspetto bene, bene. Ellie Brandon ha detto, mi scalda il cuore vedere Harry che sembra felice e soddisfatto. Un altro utente ha detto, il marito di Meghan è raggiante. La felicità sta così bene sul principe Harry.